Musica Finalmente domani e domenica si vota, così il centrosinistra conoscerà quale sarà il suo candidato alle elezioni comunali di primavera. Obiettivo degli organizzatori portare alle urne più dei 67 mila votanti delle primarie del 2010, vinte da Pisapia sulla loro favorito Stefano Boeri. Stavolta il pronostico sembra sorridere a Giuseppe Sala per il quale potrebbero votare elettori anche non di sinistra, ma il vero rischio è il flop di urne semideserte. Al TGN l'ultima intervista appello dei quattro candidati. Balzani si propone nel segno della continuità dei cinque anni griffati Pisapia, Sala è ottimista e spera in una grande affluenza, Maiorino punta sul riscatto dei quartieri popolari, così come Jannetta che invoca il voto delle periferie. Allargamento di area C, più verde, nuove case popolari senza aumentare i metri cubi di cemento in città e riapertura dei navigli. Sono quattro i referendum su cui il comune ha dato parere favorevole. Tra poco via la raccolta delle firme, la speranza dei promotori e quella di accorpare il voto cittadino al referendum costituzionale nazionale, molto probabilmente previsto per ottobre. Da 32 mesi i lavoratori della ristorazione collettiva, ovvero quelli che servono i pasti ai colleghi delle fabbriche o agli studenti e agli ammalati, da 32 mesi, dicevamo, sono senza contratto. Oggi hanno scioperato e protestato. La maggior parte di loro lavora quattro ore al giorno, molti per soli nove mesi l'anno. Buonasera dal TGN. Domani e domenica a Milano si vota, il centro-sinistra vota per scegliere il candidato alle prossime elezioni amministrative comunali. Domani 9 seggi aperti, uno per ciascuna zona, 150 invece i seggi che saranno aperti domenica. Alberto Carreras ci dà un po' di dettagli tecnici prima di entrare nel cuore di questa giornata di vigilia delle primarie, ve lo dico subito, sarà un TGN ricco di politica questa sera. Vediamo quelli che sono i dettagli tecnici sulle primarie milanesi. Il conto alla rovescia è terminato. Domani sabato e dopo domani domenica si vota per le primarie del centro-sinistra a Milano. Un appuntamento attesissimo per stabilire chi tra i quattro candidati, Giuseppe Sala, Francesca Balzani, Pierfrancesco Maiorino e Antonio Iannetta, dovrà sfidare i candidati degli altri partiti alle elezioni comunali della prossima primavera. Alle primarie possono votare tutti i residenti a Milano dai 16 anni in su, anche gli stranieri con regolare permesso di soggiorno. Bisogna recarsi al seggio con un documento di identità, sottoscrivere l'adesione alla carta dei valori del centro-sinistra e versare un contributo di 2 euro. Infine sulla scheda bisogna barrare il nome del candidato prescelto. Domani sabato si vota in 9 seggi cittadini, uno per zona, dalle ore 8 alle 18. Domenica invece si vota dalle 8 alle 20 in circa 150 seggi sparsi per tutta la città. Ogni elettore deve recarsi nel seggio relativo alla propria zona di residenza. La mappa si trova sul sito www.primariemilano.it. oppure bisogna telefonare al numero 02 84 23 29 59. Il quartier generale per tutte le informazioni viene insediato al teatro Elfo Puccini, Corso Buenos Aires. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Secondo le previsioni già dopo alcune ore si dovrebbe conoscere il nome del vincitore. Domani alle ore 13 alle 19 verranno resi noti i primi dati sull'affluenza. Stessa cosa domenica alle ore 13, 16 e 30 e alle 20. Nelle ultime primarie del 2011 avevano votato circa 64 mila elettori. In questa occasione gli organizzatori sperano di vedere incrementato il numero dei votanti. E allora scendiamo nel dettaglio dei quattro candidati. Li abbiamo intervistati tutti e quattro oggi per sentire un po' il loro appello finale, il loro stato d'animo alla vigilia di un voto del quale si è parlato tanto nell'ultimo mese evidentemente. Partiamo nell'ordine che è quello che ci sarà, chi andrà a votare troverà sulle schede elettorali e quindi sentiamo Francesca Balzani, l'attuale vice sindaco e nonché diciamo così quella su cui ha speso voto, spenderà voto e ha speso parole Giuliano Pisapia. Molto, molto soddisfatta. È stata una campagna elettorale breve ma intensa e ho sentito sempre fin dal primo momento intorno a me molta curiosità, molto interesse e molta passione. Ecco, cosa vorrebbe che l'elettorato recandosi alle urne pensasse per votare Balzani? Beh, vorrei che pensasse, innanzitutto diciamo che vorrei che tante persone andassero a votare. Ricordiamo che non ci vuole nessuna tessera di partito, basta la carta d'identità, questo è fondamentale. E poi vorrei che mi votassero perché penso di poter continuare con lo stesso coraggio, lo stesso entusiasmo, questa bellissima esperienza di cinque anni di governo Pisapia dove una coalizione ampia, un po' fuori dal comune, una coalizione capace di fare innovazione ha veramente restituito la città ai milanesi. Lei è vice sindaco, se dovesse diventare sindaco la prima cosa che farà? Beh, la prima cosa che farei intanto è un gesto simbolico. Come Pisapia mi piacerebbe lasciare aperto Palazzo Marino e incontrare tutti i milanesi, tutte le milanesi che vogliono conoscermi e stringermi la mano. E poi senz'altro ripartire subito con la partita degli scali ferroviari. Quella deve essere subito ripresa in mano, rilanciata, portata avanti, presto e meglio. Giuseppe Sala è stato commissario di Expo fino al 31 gennaio scorso ed è anche lui candidato al comune per ottenere la candidatura del centro-sinistra alle elezioni comunali. Ebbene, è il favorito, secondo i sondaggi. Parleremo tra poco di sondaggi. Oggi c'è stata una grossa polemica legata ai sondaggi. Sentiamo prima Giuseppe Sala. Direi che su dei programmi abbiamo parlato e realisticamente in un tempo così breve non si poteva fare di più. L'importante è che vada tanta gente. L'elettorato delle primarie deve sapere che non serve la tessera di un partito per andare a votare. Questo mi sembra una cosa importante. C'è qualche rammarico? Poteva il tutto svolgersi diversamente? Ma no, direi che tutto sommato anche il dibattito che in quest'ultima fase è stato animato, ma assolutamente civile, quindi no. Direi bene. Senta, secondo i sondaggi lei è sempre al primo posto, quindi questo la conforta? Sì, ma io i sondaggi non li guardo, anzi non voglio che i miei si rilassino. Voglio andare a cercare un voto, non lasciare nessun voto in giro, per cui direi che siamo moderatamente ottimisti, però molto concentrati. Lei aveva detto, stiamo attenti che bisogna battere il centro-destra, gli avversari sono là. Un eventuale Stefano Parisi come lo considera? Lo considera lei un avversario pericoloso, è una persona capace, conosco e certamente un avversario di tutto rispetto. Parlavamo, dicevamo, di sondaggi. Ebbene, Pierfrancesco Maiorino stamattina ha scatenato una piccola polemica, piccola grande polemica. Ha dichiarato infatti che nell'informazione serve pari opportunità, poi saranno i cittadini a decidere liberamente, però che un sondaggio non sia stato reso pubblico per motivi a me sconosciuti, questo non lo ritengo giusto, evidentemente non sono più il terzo incomodo. Che cosa è successo? La trasmissione di Rai 3 ha commissionato alla società X il terzo sondaggio sulle primarie milanesi. Questo sondaggio non è andato in onda questa mattina. Si dice, c'è chi sospetta, che questo sia dovuto al fatto che Sala ha perso qualche punto rispetto al rilevamento precedente e che Maiorino qualche punto l'abbia guadagnato, arrivando a scalzare dalla seconda posizione Francesca Balzani. Il conduttore del programma, Gerardo Greco, però smentisce tutto e dice che non è andato in onda semplicemente per ragioni di tempo. Ecco, resta strano, diciamo così, da detta ai lavori, che uno abbia un sondaggio su un evento molto molto caldo, interessante, anche se è milanese, è evidente che interessa tutta l'Italia, e poi non lo mandi in onda perché non c'è stato tempo. Questo è perlomeno strano. Il sondaggio è stato poi pubblicato sul profilo Facebook della trasmissione Agora. Ebbene, questo sondaggio che cosa dice? Rilevamenti fatto tra il primo e il 3 febbraio. Sala sta davanti con una forbice tra il 45,5% e il 48,5%. Precedentemente era oltre il 50%. Maiorino è al secondo posto tra il 25% e il 28%. Francesca Balzani al terzo tra il 24,5% e il 27,5%. Quindi è un'inezia, quella che è che separerebbe, secondo questo sondaggio, Balzani da Maiorino. Peraltro, credo che quello che è appena successo a livello internazionale, con le prime elezioni statunitense, primarie, e da un campo e dall'altro, insegna che questi sondaggi lasciano davvero tutto il tempo che trovano. Oltretutto questi credo che siano fatti su dei campioni molto molto piccoli e quindi con possibilità di errore molto molto grande. sentiamolo allora per Francesco Maiorino. Lui sapeva del sondaggio, ascoltatelo. No, io sono molto molto contento, in alto perché abbiamo fatto le primarie, mi ero battuto da solo all'inizio, un leone perché si facessero, quindi questa cosa mi riempie davvero di orgoglio. Poi, perché a me piace molto il lavoro che ho fatto, sono convinto delle idee, dei contenuti che ho promosso, a partire da questo enorme tema di una città che non deve andare a due velocità, col centro che va bene e i quartieri pieni di problemi. Noi abbiamo bisogno di riscatto dei quartieri popolari e di andare avanti con ancora più determinazione rispetto a quanto anche abbiamo fatto sin qui. Abbiamo fatto tante cose belle, io ne sono orgoglioso, ma ci vuole ancora più coraggio nel cambiamento. Lei ha sempre avuto molta attenzione ai quartieri, alle realtà del territorio, alle periferie. Sì, io credo che si giochi proprio lì la grande partita di domani, cioè la grande partita del futuro di Milano. Per questo voglio il primo reddito minimo comunale d'Italia, c'è un grande strumento contro le povertà, una politica davvero rivoluzionaria sul tema delle case popolari. Noi abbiamo 9500 case vuote con 21.000 persone senza casa. Finché questa cosa non si risolve non possiamo dirci accontentati. abbiamo sentito i tre principali protagonisti di queste primarie. C'è un intervento sicuramente spigoloso da parte di Dario Fo, premio Nobel milanese, il quale poco fa, ospite del programma di Radio Rai 2, un giorno da pecora, ha detto, non mi piace nessuno dei tre candidati, sono indegni di Milano. Questo Dario Fo, noi leggiamo quello che ha detto un premio Nobel. Il più indegno dei tre forse è Maiorino. Quando mi sono presentato come sindaco, lui mi rubava le battute, io facevo i comizi, il giorno dopo sentivo da lui gli stessi impianti, le stesse situazioni e mi dicevo, recitale meglio almeno le battute. Sala non mi piace, ha preoccupazione nel nascondere il suo passato, la sua conduzione politica ed economica, mi indignano. Ma perché gli ha chiesto il conduttore? Forse perché si dice sia di destra? Non è quello. Quanto per esempio non si esprime esplicitamente e chiaramente su quanto sia costato Expo. Quindi diciamo così che c'è da presumere che Dario Fo non andrà a votare alle primarie. Quello dell'affluenza è un grosso nodo per gli organizzatori, in particolare evidentemente per il Partito Democratico. L'obiettivo è quello, dicono, di scavalcare il traguardo delle 67 mila presenze che si sono registrate nel novembre del 2010, quando fu Pisapia a battere Boeri. Non sarà semplicissimo battere questo traguardo anche perché non c'è solo Dario Fo a cui i candidati non piacciono e c'è una sinistra un po' più radicale che non si riconosce esattamente in quelle che sono le possibilità di scelta. Comunque, a parte questo, andiamo a sentire quello che è il candidato numero 4, ovvero Antonio Iannetta, con un passato nel sociale, nello sport per tutti. È stato presidente dell'Unione Italiana Sport Popolari Milanese. Un po' tutti lo considerano l'outsider della situazione. Lui sa già che non vincerà, però ha l'idea abbastanza chiara, direi. Siamo partiti dalle periferie, dalle parti più importanti della città, dove bisogna portare investimenti e concentrarsi nella prossima azione amministrativa. La gente ha capito quello che sono i problemi e soprattutto il suo obiettivo? Assolutamente sì, anche da questo punto di vista è stato molto importante confrontarsi, ascoltare, ma soprattutto anche dare soluzioni. Le aree periferiche della città necessitano di maggior presenza, maggior continuità anche nel rapporto col territorio. Per noi è fondamentale l'area metropolitana nel suo insieme, quindi una visione più allargata, non solo il centro, ma come dicevo prima anche le periferie. Sono utili le primarie di questo tipo? È importante che ci sia grande partecipazione, è importante che l'elettorato di centro-sinistra avviva le primarie come un momento di confronto, soprattutto che guardi i contenuti, non tanto le persone, i contenuti e la visione di città dei prossimi 30 anni, in modo tale che il candidato sindaco al centro-sinistra sarà il miglior candidato sindaco a competere col centro-destra. di primarie, ma evidentemente non solo, si parlerà questa sera a linea d'ombra dalle 20.30 con ovviamente Adriana Santa Croce, il rischio di chiusura di Schengen, l'Europa con le sue banche, la crisi del lavoro e appunto le primarie. Tra gli ospiti Laura Ravetto di Forza Italia, Paola Frassinetti di Fratelli d'Italia, l'avvocato Giuseppe Palma, Roberto Rampi, deputato del Partito Democratico, il rappresentante responsabile economico della Lega Nord Claudio Borghi e Massimo Bonini, segretario della CGL. Restiamo con le questioni comunali, perché stamane è stato presentato il secondo passaggio dal comitato dei referendari che vogliono, diciamo così, che hanno quattro idee ben chiare in testa per la Milano prossima avventura. Sono già pronti, appena ci sarà nuovo sindaco, a presentarsi con il pacchetto. Ascoltiamo. Il Comune di Milano ha dato parere favorevole alla fattibilità dei quattro referendum cittadini che riguardano la Milano del futuro. 25 mila nuovi alloggi sociali senza ulteriore consumo di suolo, riapertura dei navigli, mobilità sostenibile e allargamento di area C e raddoppio del verde pubblico. Edoardo Croce e Marco Cappato del comitato promotore hanno ribadito la loro volontà di andare avanti ad ogni costo su temi che coinvolgono il benessere dei cittadini e una città più vivibile. Auspicano anche che i quattro referendum possano essere accorpati al referendum costituzionale nazionale previsto per ottobre. È un percorso che prosegue quello dei cinque referendum votati a larga maggioranza dai milanesi nel 2011, solo in parte attuati. Noi crediamo che oggi ci voglia un grande investimento sul futuro di Milano e al di là delle chiacchiere e promesse vaghe delle primarie, invece ci voglia un solido progetto che questi nostri quattro referendum sulla mobilità sostenibile, sul verde, sulla riapertura dei navigli e sulle case popolari possono dare a Milano, una città più attraente, con servizi migliori e che investe sul suo futuro. Immaginate una Milano diversa per il futuro. E soprattutto crediamo che per realizzare grandi trasformazioni nell'interesse generale, non di qualche potentato politico, sull'ambiente, sulle case popolari, sui navigli, sul verde, siano necessari i cittadini, perché la forza della politica purtroppo è una forza più di comitati d'affari che non di creazione di opere che vanno nell'interesse generale. A proposito di ambiente, buone notizie sul fronte del PM10, evidentemente ieri e sicuramente anche oggi è stato sotto i limiti previsti dalla legge, dunque aria un po' più respirabile, soprattutto domenica dovrebbe piovere parecchio su tutta la Lombardia, per cui anche la prossima settimana, diciamo così che si dovrebbe poter respirare tranquillamente. Apriamo la pagina di cronaca adesso. Un ragazzo di 16 anni è stato ferito stamane a Milano mentre si recava a scuola. È accaduto alla stazione centrale dove il giovane ha subito un tentativo di rapina ed è stato anche picchiato. Alla polizia ha raccontato di essere, il 16enne ha raccontato di essere arrivato in treno come ogni mattina intorno alle 8, si è recato alla toilette della stazione al piano ammezzato, è stato avvicinato da un uomo, a suo dire straniero, che gli ha intimato di consegnare telefono e soldi. Lui ha reagito ed è stato prima picchiato e poi accoltellato. Fortunatamente ha riportato un taglio all'addome e uno alla gamba, entrambi superficiali, non ha avuto bisogno di punti, dopo qualche ora in osservazione all'ospedale di Niguarda è stato dimesso. Invece era la banda dei selfie, li possiamo vedere da queste immagini, eccola qua, giovanissimi ladri che non riuscivano a resistere alla tentazione di fotografare e filmare le loro imprese. A tradire il gruppo è stata proprio la loro voglia, la loro mania per la passione, per gli autoscatti. Eccoli, mentre di notte spaccano la vetrina di un negozio di Abbiategrasso, usano addirittura un tombino per farlo, poi rubano, come vedete, telefoni per circa 7.000 euro. Sono stati riconosciuti attraverso le telecamere, hanno tra i 18 e i 21 anni, di nazionalità rumena, sono stati arrestati dai carabinieri di Abbiategrasso. Recuperata la refurtiva restituita al proprietario del negozio, che negozia subito danni per 15.000 euro. Ancora invece sono stati fermati, denunciati, tre ragazzi di 13, 14 e 16 anni, che ieri sera hanno lanciato dei sassi contro un treno in transito a Paderno Dugnano. Sono stati rintracciati dai militari mentre scappavano da una passerella ciclopedonale, dalla quale avevano lanciato alcune pietre danneggiando un convoglio in transito. E' stato il capotreno che ha visto all'opera i tre, mentre il treno stava andando da Paderno a Seveso, in direzione Milano. Era un gioco, hanno detto, come per giustificarsi. E' stato denunciato dalla polizia, siamo a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dopo che il pubblico ministero aveva deciso di non procedere con un fermo chiesto dalla polizia. Cinque ore dopo, sostanzialmente, quest'uomo aveva commesso delle rapine. Era stato però fermato, non incarcerato perché secondo il PM non esisteva il pericolo di fuga, in effetti non è fuggito. Ma cinque ore dopo essere stato rilasciato, è tornato all'opera, è tornato al lavoro, diciamo così, questo galantuomo, Michael Shasha, pregiudicato di 33 anni, ha fatto un'altra rapina. Questa volta l'hanno arrestato. Adesso parliamo di... Siamo poi in ritardo questa sera, ma era ricca la pagina politica, e anche la cronaca non si risparmia niente, però dobbiamo mandare anche questo servizio perché sono dei lavoratori che da 32 mesi aspettano il rinnovo del contratto. Sono i lavoratori della ristorazione collettiva. Ascoltiamoli. Otto ore di ciò per oggi e manifestazione con corteo a Milano, da Piazza della Scala sino alla Prefettura, per i lavoratori della ristorazione collettiva. Il contratto è scaduto da 32 mesi. Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno, nelle aziende, negli ospedali e nelle scuole, cucinano e servono i pasti ad altri lavoratori e ammalati e a studenti delle scuole di ogni ordine grado. Sono dipendenti in gran parte part time, i cui orari settimanali variano tra le 15 e le 20 ore. Le società di appartenenza vorrebbero modificare le regole del cambio di appalto, in modo da poter ridurre l'orario, i livelli retributivi e anche i diritti. Tre anni senza avere aumenti, senza contratto e con la volontà delle aziende di ridurre i diritti dei lavoratori per firmarlo. Questo crediamo sia inaccettabile. Per questo oggi siamo in piazza. Tutto molti lamentano di avere stipendi che non durano tutto l'anno. I lavoratori, tutti i lavoratori del settore guadagnano, hanno stipendi bassi, perché fanno 3-4 ore a settimana, al giorno. Quindi sono part time. Una parte di loro, quelli che lavorano nello scolastico, prendono lo stipendio solo per 9 mesi, perché da giugno a settembre sono incolpevolmente disoccupati. Quindi chiedete l'intervento del governo? Su questo chiediamo l'intervento del governo e al prefetto chiediamo un'altra cosa stamattina, di istituire una commissione di verifica sugli appalti, perché molti di questi lavoratori lavorano per aziende, che lavorano per il pubblico, e il committente pubblico a volte non verifica che i contratti di questi lavoratori vengano rispettati. Era davvero l'ultima notizia, non mi resta che ricordarvi il Meteo e Nova Stadio Sprint che vanno subito dopo di noi, alle 20.30 ancora linea d'ombra. Grazie TGN per questa settimana, vi saluto, ci rivediamo come sempre lunedì alle 19.15. Buona serata. Grazie a tutti.